Il Vasto Girardi espugna il comunale di Castelnuovo e si aggiudica il recupero della 17esima giornata di andata. L'1-2 finale sa di rivalza per il Vasto Girardi che qui aveva perso 3-0 in Coppa qualche mese fa. Dopo l'emergenza Covid a distanza di 47 giorni torna in campo il Castelnuovo-Vomano. La formazione nero-verde ampiamente rimaneggiata dopo le sessioni di mercato invernale si schiera con un insolito 3-5-2 con la coppia offensiva formata dal duo Emili-Vegidio. Previsto per domenica prossima gli esordi dei nuovi arrivati Bubalo e Colì. Nessuna novità sul fronte molisano con Prosperi che si affida agli stessi che hanno pareggiato per 1-1 contro la Vastese. Dopo una prima fase di studio a rompere gli indugi la formazione di casa. Fraseggio centrale con Emili a premiare l'inserimento di Foglia ma il tiro del centrocampista a botta sicura termina fuori. Il Castelnuovo fa la gara ma il Vasto Girardi un po' a sorpresa a trovare il vantaggio. Tutto si sviluppa sul settore di sinistra con l'imprendibile Guida che lascia sul posto il diretto avversario poi con un po' di fortuna la sfera arriva sui piedi di Alagia, bravo di prima intenzione a mettere alle spalle di Natale. Quarto centro per l'attaccante in questa stagione e sul risultato di 0-1 termina anche la prima frazione di gioco. Ad inizio ripresa subito episodio da Movioli in area alto molisana. Foglia entra a contatto con Montuori ma per il direttore di gara e simulazione doppio giallo per il centrocampista che lascia il campo anticipatamente tra l'incredulità dei pochi presenti. Il Castelnuovo con la forza della disperazione prova una reazione seppur timida. Sgroppata sull'out di Sanseverino, il migliore dei suoi, che nel tentativo di mettere dentro per poco non trova la deviazione vincente da parte di un difensore ospite. Ma è un fuoco di paglia, ancora un errore in fase di uscita. Uno dei tanti in stagione nei Neroverdi mette nelle condizioni Guadalupi di involarsi verso la porta e dal limite dell'aria fulmina Natale con un terra-aria che incocce il palo e termina la sua corsa in fondo al sacco. Autentica doccia gelata per i padroni di casa che ora sono sotto di due golle di un uomo. I Neroverdi, trascinati da De Gidio, provano a rientrare in partita al ventesimo ma la conclusione del numero 7 sfiora di poco il palo alla sinistra di Di Stasio. Il vasto Girardi, forse appagato dal doppio vantaggio, si adagia. Così il Castelnuovo, al quarantesimo, rientra in partita e il solito De Gidio a tentare questa volta dalla distanza siderare la conclusione trovando l'infortunio del portiere che non calcola il rimbalzo e si fa scavalcare dalla sfera. Il finale è un monologo Neroverde ma nei tre minuti di recupero la squadra di Di Fabio non riesce ad avere lo spunto decisivo per pareggiare la sfida. Ora la classifica si fa sempre più preoccupante per i Teramani mentre il vasto Girardi vede sempre più vicina la griglia dei play-off. Sicuramente è un ritorno amaro in campo quello del Castelnuovo. Mister Di Fabio si aspettava qualcosa di diverso anche se, come dice sempre, l'impegno c'è stato e l'abbiamo visto fino alla fine. Purtroppo pesano questi tre mesi lontani dai 90 minuti. Che potessimo avere qualche difficoltà a livello fisico dopo tanti giorni senza giocare questo l'avevamo preventivato ma la squadra ha retto bene per tutta la partita. Il discorso è che ritorniamo sempre a quello che stava accadendo prima non è cambiato niente perché la partita è in bilico equilibrio assoluto il primo tempo anzi abbiamo avuto prima noi delle occasioni per andare in vantaggio poi dopo il secondo tempo nel maggior momento di pressione nostra un episodio che io dalla panchina ho sentito il rumore delle scarpe che si sono incrociate questo addirittura il rigore non ce lo dà e ci dà l'espulsione del nostro giocatore è normale che poi rimani in 10 nonostante ci siamo rimasti e abbiamo cercato di giocarla fino alla fine abbiamo commesso un errore sul gol del 2-0 non abbiamo mollato abbiamo fatto anche il 2-1 in 10 ci abbiamo crevuto fino alla fine lo spirito è quello giusto quello che mi interessa in questo momento ai ragazzi ho fatto i complimenti sicuramente oggi avevamo qualche assenza di troppo sono arrivati qualche giocatore nuovo che ci verrà da una mano però lo spirito è quello giusto quindi andiamo avanti su questa strada senza preoccuparci più di tanto della sconfitta di oggi no, rivincite no sicuramente abbiamo perso male quella partita e non ci era piaciuto come l'avamo fatta questo è poco ma è sicuro avevamo rivincite volevamo fare i punti perché noi ci servono per salvarsi che è ancora lontanissima la salvezza quindi il cambiato è durissimo anche Castelnuovo comunque ha fatto la sua partita è stata una partita molto difficile no, nessuna solo che ci servono i punti che cosa è cambiato? l'abbiamo detto spesso dal vostro Girardi che era all'inizio al vostro Girardi che è adesso niente niente di particolare nel senso che io credo almeno poi il mio pensiero che quando voglio vedere le squadre giovani comunque ci vuole ci vuole il lavoro ci vuole il tempo per per prendere consapevolezza per crescere e poi io lo dicevo lo dicevo anche prima quando nei primi cinque partite mi sembra che abbiamo fatto tre punti io ero comunque molto contento delle prestazioni noi abbiamo fatto tutte buone prestazioni e quindi bene bene così bene i ragazzi stanno crescendo tutti anche chi sta giocando meno e mi dispiace perché sono dei ragazzi d'oro che stanno lavorando tantissimo ma ci stiamo lavorando dall'anno scorso è normale che è un modulo che magari non dico complicato ci vuole grande applicazione ma ci vuole tutti i moduli che rende applicazione quindi sono molto contento perché per noi è una vittoria troppo importante che però non ci dà nulla ancora quindi ora da domani abbiamo da preparare la terza partita in una settimana durissima a Matese niente grazie grazie grazie